Un 2017 che parte con il piede giusto per l'Emilia-Romagna, almeno per quanto riguarda i dati sull'export made in Italy nei settori delle micro e piccole imprese che nella nostra regione registra un 2016 all'insegna dei massimi storici. Più 2,7% è questo il dato che fa sorridere gli operatori del settore e che vede il nostro territorio piazzarsi al sesto posto nella classifica delle regioni italiane più virtuose nel campo dell'esportazione. Dati ancora più significativi se si calcola che ben 5 province si attestano nelle prime 20 posizioni a livello nazionale. I dati che arrivano dall'ufficio studi di Confartigianato confermano la buona crescita del nostro territorio delle micro e piccole imprese capaci di conquistare nuove quote di mercato all'estero anche in presenza di dimensioni aziendali ridotte, come spiega il presidente di Confartigianato Emilia-Romagna, Marco Granelli per il quale questi nuovi numeri dimostrano che capacità, competenza e innovazione non dipendono solo dalla dimensione aziendale. Una escalation che parte già dai primi mesi del 2016 nei quali le imprese hanno avuto un picco dell'1,2% viaggiando a un ritmo doppio rispetto alla media del manifatturiero nazionale. Tra i settori con maggiore dinamismo abbiamo il commercio del legno più 5,4% seguito dai prodotti alimentari, più staccati ma comunque in netta ripresa i settori legati a mobili, articoli di abbigliamento e prodotti tessili. Da questo punto di vista a livello regionale è Piacenza a brillare più di tutte, forte di un più 5%, mentre avvicinando la lente sui territori della Romagna abbiamo l'ottima performance della provincia di Forlicesena più 3,9% seguita a ruota da Rimini e Ravenna.